Un trono di popolarità per il figlio di Margaret e di Armstrong Jones. Il piccolo visconte di Linley Denheimans è nato da appena un mese ma è già il personaggio più popolare e più simpatico di tutta l'Inghilterra. Naturalmente non ha bisogno dei professionisti dell'obiettivo dato che il suo papà è un grande fotografo. L'ex fotografo di corte infatti in occasione della nascita del figlio ha ripreso la macchina che aveva attaccato al chiodo subito dopo le nozze e ha scattato a David e a Margaret queste foto che hanno fatto subito il giro del mondo. Il sensazionale servizio è stato ceduto dal fotoreporter d'eccezione all'agenzia fotografica per la quale egli lavorava prima del matrimonio. Ha fatto però che ogni provento venga devoluto ad opere di beneficenza, una maniera molto simpatica per festeggiare Baby David.